Wow! Sorellina, sei pronta per il parco acquatico? Sì! Scendiamo dagli scivoli! Magli un gelato! Ok! Ecco a te, sorellina! Wow! Allarme bomba! Dea! Lucy, seguimi! Ma dov'è? Lucy? Ecco di qui! Ciao, fratello! Mi sto facendo un tatuaggio! Andiamo! Ehi, e i soldi? Ecco qua! Lucy, che bel tatuaggio! Wow! Lo scivolo dei miei sogni! Voglio salire lì! Oh, il mio angelo! Cosa? Sorella! Ciao, fratello! No! Lucy! Riportatela indietro! Dovrò tuffarmi con mia sorella! Non sono tagliato per questo! Lucy! Lucy! Lucy, dove sei? Lucy! Lucy! Dov'è? Oh, giusto! Attirerò Lucy con il gelato! Lucy! 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 La mia gola! Oh, è quella che mi serve! Vuoi un gelato? Lo scambio con il megafono! Lucy! Lucy! Posso alzare il volume? Ha tutto volume! Oh, molto meglio! Lucy! Ridammi il mio megafono! E lava il pavimento! Capito? Oh, la mia idea! È stupenda quando corri al rallentatore! Ehi! Metti giù lo straccio, Sean! Anche tu sei figo! Ops! Ho dimenticato il cartello del pavimento bagnato! Resisti, Dea! Ti salvo io! Indietro, novellino! Ora ci pensa un professionista! Signorina, è svenuta? Le faccio la rianimazione cardiopolmonare! Ai! Cosa? In realtà, mi fa male il braccio! Non mi serve la rianimazione! Demente! Ti serve il ghiaccio! Lascia che ti aiuti! Sei tornato? Ancora qui? Ora vengo a prenderti succhia sacque! Lucy! Eccoti! Aspetta! No! Non salirò lassù! Sono troppo intelligente! Aspetterò Lucy qui sotto! Così lei volerà via da qui e io la prenderò! Lucy, dove sei? Lucy? Perché ci metti tanto? Che caldo! Non mi sento molto bene! Ehi, sveglia! Devi essere rianimato! Svegliati! Ehi, pazzoide! Torna in vita! Ti serve un cappello quando sei fuori al sole! Lucy! Oh! Mi serve un binocolo come questo! Ma come faccio a prenderlo? Vieni con me, pacchetto di Pringles! Sei un ottimo sostituto del binocolo! File, non noterai la differenza! Non preoccuparti! Dov'è mia sorella? La vedo! È in acqua! Lucy, vengo a prenderti! Resta lì! Eccolo! Il suo salvagente giallo! Lucy! Ops! La mia dea! Di nuovo tu! Lasciami in pace! Sean non va molto bene con le ragazze! Qualcuno ha visto Lucy? Lucy! Guardate il poster! Lucy! Sei qui? No! Dov'è la mia Lucy? Ora tutti possono vedere il mio poster! Ok! Devo andare, amica mia! Vai dritta e poi a sinistra! Ehi! Che bussa! Di nuovo tu! È il mio binocolo! L'hai rubato! Nuova via da qui! Voglio saltare da quell'alta scogliera! Lucy! Eccoti! Ora ti prendo! Ti prenderò! Ferma! Oh no! Lucy! Dove vai? Occidenti! Sono terrorizzato! Mi fa paura saltare! Oh! La mia dea! Ciao! Ok! Mi farò coraggio anch'io! Un salto d'amore! Sono sopravvissuto! Oh! Lucy! Aspetta! Lucy! Uomo in mare! Resta lì! Non annegare! Il bagnino sta arrivando! Lucy! Lucy! Lo sto annegando! Lasciami andare! Come trovo mia sorella? Aspetta un attimo! Continuava a chiedermi di costruire una casetta per lei! Non ho mai avuto tempo per farlo! Casetta! Casa dei giochi! Esatto! Costruirò una casa per mia sorella e lei tornerà! Un materasso gonfiabile! Una tenda! Il giocatto di preferiti di Lucy! E luci brillanti! Alcune sue foto! Mi serve anche un cartello che indichi la casa segreta! Casetta! Wow! Il mio sogno più grande! Wow! Ci siamo! Questa posta è fantastico! Wow! Tutti i miei giocattoli preferiti sono qui! Fratello! Hai fatto questo per me! Significa molto per me! Sei il miglior fratello maggiore di sempre! È tutto mio! Possiamo metterla in acqua? Una casa galleggiante! È un buon piano! La mia dea che nuota! Ti piace la mia nuova amica? Ehi! Nuota qui! Mi dispiace di averti fatto cadere! Ah! Picciancini! Wow! Che giornata pazzesca! Io vado a giocare! Ok! Ho bisogno di rilassarmi! Non mi prenderai, ragazza! Non puoi scappare da me, cattivo! Dio! Stavo dormendo! Buongiorno, fratello! Come hai fatto a fermare il cattivo? L'ho già fatto centinaia di volte! Mia sorella ha dei superpoteri? Lo so! Mi lasci mangiare in pace? No! Così non va! Ciao, bello! No, non mi piace! Ma questo è molto bello! Le strisce mi stanno bene! Vado al mio appuntamento! Sean! Giochi con me alla casa! Mi dispiace! Non posso! Ho un appuntamento con questa bellissima ragazza! Lo vedrete! Lucy? Cos'hai fatto? Perché hai mandato un fulmine alla mia ragazza? Ma almeno ora sei libero! Lucy! Ti prenderò a mostro! E i tuoi superpoteri non mi fermeranno! Questo significa un duello! Un duello! Cominciamo! Aspetta, che c'è? Un pericoloso criminale è scappato! Non abbiamo idea di come sia successo! E i suoi possi sono troppo scivolosi! What? Amo questo cartone animato! Sean! Bene, bene, bene! Ho bisogno di altre informazioni! Che succede all'asciugacapelli? Accenditi! Di nuovo? In realtà non ho bisogno di una presa! Oddio! Niente cortocircuiti! Resta qui, orsacchiotto! Teddy? Dove sei? Sean! Mi dammi il mio orso! Prova a prenderlo! Sto per fargli un nuovo taglio di capelli! Lascialo stare! Come vuoi? Cosa? Orso, lasciami andare! Non lo farò mai più! Questo è quello che succede quando mi si prende in giro! Ops! Ciao, fratello! Ciao! Sono io! Giochiamo insieme! No! Vai, fratello! So come convincerti! Ai! Il mio controller! Ops! Allora, vuoi giocare? No! Ho un telefono! Non più! Spegni la batteria! Ehi! Il mio telefono è morto! Allora vuoi giocare con me? Per favore! Bene! E Barbie è venuta a trovare Ken! Sean! Svegliati! Il mio noso! Brutta maleducata! Gioco finito! Scusa, Sean! Scusa, Sean! Una favola sui tre orsi! Sean! Cos'è successo? Si è bruciata una lampadina e ho paura di dormire quando è buio pesto! Poverino! Ti aiuto io! Visto? Funziona! Ecco la lampadina! No! È di nuovo spenta! Ma tutto bene! Non piangere! Anche tu sei raggiante! Potere degli abbracci! Fratello! Ora sei più luminoso di qualsiasi lampadina! Sogni d'oro! Mi serve una spinta di energia! E il caffè forte non aiuta più! Passiamo all'energia alternativa! Una bevanda energetica! Ora sono sveglia! Carica al cento per cento! Oh, Sean! Tesoro! Il tuo maglione è così carino! Stiamo per mostrarti chi comanda qui! Lasciate stare mio fratello, Bulli! Cosa? Un caricabatterie del telefono! Questa è la tua potente arma! Ora ci divertiremo! Caricabatterie! Prendili! Cattura i cattivi ragazzi! È vivo! Un semplice caricatore li ha spaventati a morte! Sei elettricamente carica? Beh, ciao super ragazza! Vieni con me! Cosa vuoi da me, Fillimor? A che servono questi tubi? Tesoro! Fai parte del mio master plan! Oh, sì! Pomperò tutta l'elettricità da te! E la venderò per un sacco di soldi! Accendere la pompa di energia! Oh, no! Oh, sì! Dì addio al tuo superpotere! Più energia! Di più! Ha bisogno di tutto ciò che hai! Che cattivo insidioso! Prendi questo! Il mio sedere cattivo! Smettila di fissarmi, Lucy! Ehi! Quello è l'orsacchiotto di Lucy! Perché è qui tutto solo? Questo è strano! Lucy? Sorella, dove sei? Lucy? Dove potrebbe essere? Oh, giusto! Fillimor l'ha rapita! Troverò mia sorella! Scherzi con quello sbagliato! Mi sto preparando! Ah, il mio canale preferito! Finalmente! La mia pizza da combattimento è pronta! Fillimor, sei finito! È quasi tutta carica! Ma che diavolo è? Consegna pizza? Ma non ho ordinato niente! Ah, il mio splendido viso! Lucy, la tua energia sarà mia! Ciao! Ciao! Sono io! Vabbè, Lucy! Mi sono mancata, Fillimor! Bel lavoro, ragazza! Di nuovo! Lucy, grazie per aver arrestato questo maestro del crimine! Come sei riuscita a catturare un criminale? Aspettate! Sapete? Mi hanno aiutata! Come hai catturato il pericoloso criminale? Diccelo! Io? Davvero? Vai, fratello! Sapete? Trovare il proprio superpotere è la chiave! Il mio è la pizza! Sean, fai schifo! Che ne dici di questo? Ora basta! Piano, sorellina! Mio fratello è un supereroe! Sì, lo so! Ehi! Mi lasci mangiare in pace? Forza! Basta così! Fine! Basta così!